Il nostro box CrossFit Getsu è stato aperto nel 2016, il prossimo anno compierà cinque anni, siamo il primo box di CrossFit ufficiali nel sopracenere e il secondo in tutto il canton Ticino. Diciamo che nel canton Ticino nel 2016 il CrossFit non era ancora tanto conosciuto, quindi gli inizi sono stati abbastanza difficili. Dopodiché hanno iniziato a conoscere alle persone questo sport qua e si sono avvicinati e abbiamo iniziato ad ingrandirci piano piano. CrossFit Getsu si è sempre differenziato per principalmente due motivi. Il primo abbiamo sempre puntato molto sulla qualità del servizio, quindi classi piccole. Prima di aprire questo nuovo box qua, CrossFit Getsu 2.0, svolgevamo classi da otto persone, perché secondo me è il numero ideale per poter gestire una classe di CrossFit e poter seguire le persone. Sono un istruttore di arti marziali giapponese, quindi io seguo la filosofia del Bushido. Il nostro moto del CrossFit Getsu è forza e onore. Io seguo queste attitudini qua, quindi dove le cose che faccio, le cose che spiego e quello che voglio dagli atleti del CrossFit Getsu e che siano onorevoli e che diano sempre il loro massimo, quindi che siano molto forti tutto quello che facciano, ma non solamente fisicamente, ma anche interiormente. Ho deciso di cambiare lo spazio e ampliarlo, quindi passare da 200 metri quadrati circa a 500 metri quadrati, perché gli affiliati continuavano ad aumentare e quindi per rispondere a questa domanda qua abbiamo deciso io e altre persone di trasferirci in uno spazio molto più grande che potesse anche rispondere a tutte le esigenze della nostra clientela. Il box attuale, come vedete, non era così prima, era un magazzino, quindi abbiamo dovuto praticamente costruire gli spogliatoi, costruire il magazzino e costruire tutto quello infatti che serve a un box di CrossFit per essere un vero box di CrossFit. Il brand King's Box e la sua attrezzatura l'ho conosciuta la prima volta in una gara svolta con altri miei amici in Italia, mi è subito piaciuta, ho subito notato la buona qualità del materiale, discutendo infatti con gli amici che erano lì sapendo della nuova apertura, ho contattato subito King's Box, chiedendo infatti delle offerte e tutto il progetto è durato la bellezza di nove mesi. Abbiamo iniziato a parlare, a fare delle offerte e siamo arrivati a questo. a questo.